buongiorno a tutti per i due minuti di mambo estesi di oggi il nostro ospite è Silvia Evangelisti che ringrazio per aver accettato il nostro invito grazie Silvia grazie a voi a te Silvia Evangelisti è una storica dell'arte una docente sia all'Università di Bologna che all'Accademia di Belle Arti di Bologna da molti anni è stata la direttrice artistica di arte fiera la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Bologna dal 2003 al 2012 e nella sua storia nella sua storia di storica di professionista ha intrecciato moltissime volte la sua professione i suoi incarichi con le vicende della Galleria d'Arte Moderna di Bologna e poi del mambo tanto che addirittura tra il 2008 e il 2011 si è stata chiamata dal sindaco a ricoprire un ruolo all'interno del consiglio di amministrazione dell'istituzione musei civici di Bologna e con Silvia Evangelisti vorrei proprio fare un po' un percorso a tappe chiederti appunto di raccontarci questo tuo rapporto professionale e anche da cittadina di Bologna con la Galleria d'Arte Moderna prima e il mambo poi a partire proprio dal periodo diciamo pre Arte Fiera quindi diciamo dalla fine degli anni 80 fino al 2000 e poi quando come direttrice di Arte Fiera hai sviluppato molti importanti progetti anche con il comune di Bologna con il mambo che sono ancora vivi oggi e che sono ancora parte dell'operta culturale di questa città quindi grazie ancora ti lascerei la parola proprio per questo percorso a tappe grazie mille sono contenta perché parlare di Bologna e di arte è sempre una cosa molto bella perché in realtà Bologna ha una sua vocazione che a volte è nascosta ma ha una forte vocazione per l'arte l'ha sempre avuta ha avuto grandi storici dell'arte ha avuto nella sua università insegnato da Roberto Longhi a Carlo Volpe a Francesca Arcangeli a Paolo Fossati e insomma i nomi Giovanni Castagnoli sono Renato Barilli adesso non posso citarli tutti perché Anna Cavina sarebbe troppo. Il primissimo racconto precede anche gli anni 80 ed è quando ero studentessa ho avuto una straordinaria opportunità che mi è stata proprio offerta dalla GAM dall'allora Galleria d'Arte Moderna che si trovava vicino alla fiera che è stata quella delle settimane delle performance indimenticabili perché è stata un'esperienza io appunto ero studentessa all'università le settimane delle performance organizzate da Roberto D'Olio, Francesca Linovi e Renato Barilli hanno offerto per la prima volta credo in assoluto un festival oggi lo chiameremmo allora erano la settimana delle performance in cui i maggiori performer del mondo dal 76 al 79 sono stati sono venuti a Bologna e io ho avuto modo di conoscere personalmente di parlare con personaggi che poi sono diventati veramente dei primi al mondo come Marina Abramovic e Olai come Vito Acconci come Gina Pane come Erman Nietzsche insomma i più grandi al mondo e quindi già questo ha reso un luogo dove gli studenti giovani andavano a trovare qualcosa che non si trovava altrove e questo era insomma è stato per un certo periodo molto importante la gamma ha fatto mostri ha fatto tutto però quello che poi mi interessa è che quando io ho cominciato appunto quando sono diventato negli anni 80 diciamo pre artefiera si frequentava molto la gamma la frequentavano molto gli studenti la frequentavano moltissimo i giovani si trovano non c'era un bar non c'era un cappero c'era uno schifosissimo bar in basso una roba per cui non è che avesse delle attrattive particolari però la si frequentava perché era l'unico luogo a Bologna e uno dei pochi in Italia allora non era così diffuso oggi ci sono musei d'arte contemporanea in tante parti e sono bellissimi e fanno una grande attività allora c'erano molto meno e quindi si frequentava la gamma e la gamma era un luogo un po' come dire quasi underground paradossalmente pur essendo invece un luogo pubblico e del comune quindi voglio dire e c'erano e fuori dalla gamma c'erano sculture di pomodoro e c'era sculture di spagnuolo insomma era c'era e soprattutto in due momenti particolari di insomma che io ricordo quando alla direzione c'era Nino Castagnoli Pier Giovanni Castagnoli e poi Danilo Ecker sono stati due momenti fino agli anni 90 in cui si sono viste mostre che potevano essere fatte anche a New York e questo è stato un momento particolare la mostra di Kiefer non me la posso dimenticare ma quella di Gilbert and George è stata una mostra magnifica la presenza di Basquiat che ha presentato in prima mondiale scusate la presenza di Julian Schnabel che ha presentato in prima mondiale su Basquiat insomma c'erano eventi e gli autobus giravano con le immagini delle mostre della gamma quindi erano eventi particolari poi nella seconda metà degli anni 90 le cose si sono un pochino più come dire istituzionalizzate la gamma ha continuato a fare un ottimo lavoro e poi pagando però il prezzo di essere forse in un luogo poco frequentato e poi il trasferimento trasferimento che è avvenuto nel periodo in cui era direttore Gianfranco Maraniello che vi ricordo una cosa particolare che sfruttò il passaggio dal trasloco fisico quindi lo svuotamento della gamma per essere per passare al forno del pane dove oggi appunto è il mambo e si trova il mambo e organizzò una bellissima mostra di Christopher, io dunque devo avere l'Alzheimer Christopher Wyman Wyman, ecco mi veniva Walker scusate che aveva lavorato sui muri, cioè proprio sulla struttura architettonica ed è stata una bellissima mostra perché era una mostra quasi impossibile da fare in un altro momento in altre condizioni perché non è che puoi distruggere un museo per fare una mostra quindi questo è stato un segno secondo me molto importante di ripresa di riattualizzazione della gamma della Galleria d'Arte Moderna di Bologna che diventa il Museo d'Arte Moderna di Bologna appunto da cui l'acronimo mambo e da lì devo dire c'è una nuova storia effettivamente il mambo inaugura una situazione nuova io poi come quando poi sono diventata direttore dell'Arte Fiera certamente a me faceva comodissimo che la gamma fosse attaccata alla fiera perché si potevano organizzare delle cose molto belle a chilometri zero cioè era proprio una cosa inoltre io avevo anche una caratteristica personale perché io non mi ero mai occupata di mercato io ero stata consulente di Arte Fiera ma sempre per le scelte delle gallerie per le mostre ma quindi io non ero un'esperta diciamo di mercato dell'arte e quindi ho soprattutto all'inizio ho sfruttato invece le mie competenze o quantomeno le mie conoscenze e quindi ho cercato molto l'aiuto dei musei e delle istituzioni bolognesi devo dire con una risposta assolutamente impensata e straordinaria una partecipazione anche dopo un minuto di diffidenza non di più, un minuto di diffidenza io ho avuto con me tutti i direttori dei musei curatori di musei anche archeologico, medievale che sostanzialmente lontani dall'arte contemporanea naturalmente e quindi che hanno aperto le loro porte per ospitare quella che appunto nacque allora io sono diventata direttrice nel 2003 collaboravo già da molti anni con Arte Fiera e nel 2005 ci inventammo ci inventammo perché veramente ce l'ha inventammo anche il nome The White Art Night che era il mio desiderio di portare fuori dai padiglioni della fiera l'arte contemporanea proprio perché avevo constatato un po' di diffidenza da parte di persone che io sapevo essere invece molto aperte oltre che colte, oltre che professionalmente inappuntabili e volevo in qualche modo anche rompere questo gioco della diffidenza e mescolare le carte e quindi cominciò con le installazioni nei musei e i musei aperti il sabato sera fino a luna di notte e l'arte fiera si svolge in un periodo non fortunatissimo perché gennaio a Bologna o nevico o piove in un freddo polare però io mi ricordo nel 2005 mi ero commossa a vedere la gente per la strada per le strade in giro e naturalmente si teneva l'evento clou si teneva alla gam o c'era una festa o c'era una mostra importante e c'è stata sempre una fortissima sinergia tra arte fiera e la gam proprio perché la gam ha capito il comune soprattutto che ha capito che gli si offriva a costo zero perché devo dire che contrariamente a quanto è successo per altre fiere il comune di Bologna non ha mai finanziato minimamente arte fiera però ha colto insomma la possibilità di avere e noi avevamo tu dicevi che appunto sono stata nel consiglio d'amministrazione dell'istituzione musei e avevamo tutti i dati grafici ed era divertente vedere in certi musei peraltro bellissimi ma poco frequentati e molto poco conosciuti anche dai bolognesi tipo non so la via Bargellini questi musei che sono musei delle chicche però insomma sono poco conosciuti si vedeva nei grafici gennaio che andava alle stelle e poi tru che tornava giù quindi era ecco era effettivamente molto promozionale per i musei e io questo l'ho trovato una delle cose di cui sono più insomma voglio dire di cui sono più contenta perché io ho cercato davvero di di far sì che l'arte contemporanea diventasse familiare ai bolognesi lo è diventata devo dire che c'era un io non me ne ero accorta non lo sapevo ma c'era invece una disponibilità straordinaria sia appunto nelle istituzioni che si prestavano a mettere opere anche con un gru con delle robe complicate dentro il palazzo d'Accursio cioè c'era una grande disponibilità c'è stata una grandissima disponibilità della città e questo mi ha stupito perché Bologna ha questo aspetto a volte un po' sonnacchioso però se gli dai uno spunto se gli dai la possibilità è una città che risponde invece straordinariamente e quindi naturalmente tutto questo finché la galleria era vicina era estremamente semplice io avevo organizzavo però organizzavamo proprio insieme le cose e c'erano certe installazioni che GAM faceva dentro la fiera quando poi è diventata Mambo è stato paradossalmente più facile meglio perché il Mambo era in una posizione per cui nelle note bianche nelle aperture serali e organizzava cioè si tenevano le mostre appositamente per per il periodo di artefiera cioè il direttore in quel momento era Gianfranco Maraniello ma insomma e dopo poi anche quando sei arrivato tu è stata esattamente la stessa cosa la mostra vetrina diciamo dell'anno si teneva proprio nel periodo di artefiera perché questo garantiva non solo una maggior frequenza perché chiaramente ma garantiva anche l'immagine della città cioè la città era tanto che dopo appunto questa la cosa di Bologna Art First che era stato all'inizio delle installazioni in città di gallerie che partecipavano ad artefiera poi continua ancora oggi devo dire più strutturata molto cioè è stato adesso è diventata una manifestazione che è sempre legata ad artefiera ed è però ha una sua forza autonoma perché è cioè il comune si è preso carico di questa di questa iniziativa e la città veramente si anima enormemente e le mostre sono belle tutti voglio dire no è un perché all'inizio un po' insomma c'era come sempre c'era un po' di rodaggio questo e oggi invece con il mambo in centro con il mambo soprattutto in quell'area che è un'area estremamente viva è diventata ecco il mambo ha avuto questa ha fatto quell'operazione che New York ha fatto per bonificare tutti i suoi quartieri io la prima volta che andai a So mi ricordo che mi dissero quando cala il sole è meglio che vai via perché lì può succedere di tutto So che oggi è e il mambo è stato la stessa ha fatto la stessa operazione molto intelligente creando una situazione il bar le cose molto gradevole molto piacevole e poi anche quell'iniziativa che hai avuto tu quando sei arrivato che sono sempre anche Gianfranco è arrivato che aveva la tua età questa cosa di scegliere dei direttori giovani non è un giovanilismo a casaccio ma è portare qualcosa che una visione della realtà del mondo non solo dell'arte ma anche proprio del mondo nuova e quindi quando sei arrivato tu e hai tolto le paratie alle grandi vetrate aprendo il salone centrale del mambo al portico quindi a Bologna c'è una figura che viene citata che è l'umarel e l'umarel è che sono quei pensionati che si fermano a guardare i lavori nei cantieri ecco il mambo è stato un'area dove gli umarel sono andati a guardare cosa succedeva dentro e questo è stato straordinario e ha creato un ha creato un'apertura cioè non è più un museo chissà cosa c'è là dentro l'arte contemporanea fa paura perché io non la capisco no si è creato e quindi ancora di più e poi si è stretto ancora di più il legame con arte fiera soprattutto con Simone Menegoi e Gloria Valdi che sono stati adesso poveretti non c'è più la fiera nel senso che è sospesa la fiera e sono sospesi in aria anche loro però hanno attivato hanno riattivato non so quel clima che io avevo cercato di inventarmi e che la fortuna mi aveva assistita dalla fortuna ero riuscito un po' a muovere eccoci sono arrivata l'oggi ma Silvia vorrei farti una domanda un po' diversa cioè io vorrei intracciare intracciare un po' i tuoi percorsi perché abbiamo parlato della tua attività da storica dell'arte e da direttrice però tutto molto del tuo interesse anche professionale si è rivolto all'educazione alla didattica e c'è una particolare e questa attività intreccia diciamo tutto quello che ci hai raccontato fino adesso perché intreccia il tuo lavoro con arte fiera in cui hai impostato un certo lavoro di mediazione anche dei contenuti di avvicinamento dei pubblici intreccia la tua attività di docente all'università e all'accademia ma intreccia anche il tuo rapporto con la GAM con Cristina Francucci abbiamo parlato ad esempio di D-Art che è stata un po' forse uno dei progetti principali che ti ha vista veramente coinvolta come istitutrice e direttrice di questo ricordo anche che tu sei stata tra coloro che hanno istituito il corso di comunicazione didattica dell'arte all'accademia di belle arti che è un corso che ancora oggi forma figure professionali proprio nel solco della comunicazione nella didattica dei contenuti espositivi magari potevi parlarci un po' di D-Art e anche di quello che è venuto dopo perché anche negli ultimi quattro anni in cui io sono stato al mambo e abbiamo avuto modo di continuare in quel solco di comunicazione e didattica dei contenuti espositivi sì questa è stata una cosa molto molto interessante è stata un'opportunità che ho avuto così la fortuna di poter cavalcare mi ero dimenticata perché c'è stata un'opportunità che ha offerto il ministero della pubblica istruzione dell'università di creare in vista della riforma universitaria dell'accademia di belle arti per la quale io mi sono spesa davvero molto ed ero soprattutto sono stata per cinque anni nel CNAM cioè in questa commissione che è il cun dell'Affam delle scuosso ma delle accademie dell'alta formazione artistica musicale insomma l'Affam si svolge così e quindi io poi mi sono dimessa perché era un CNAM provvisorio era un istituto provvisorio che era quello che parlava con il ministro che presentava le cose dopo sei anni era ancora provvisorio e mi è sembrato che fosse giunto il momento di cambiare di fare quello invece definitivo ma in occasione di questo fu data alle accademie l'opportunità di istituire dei corsi sperimentali che funzionassero già come il sistema universitario cioè con il 3 più 2 perché noi avevamo i 4 anni invece e io con l'aiuto assolutamente fondamentale di Cristina Francucci che oggi è anche direttrice dell'Accademia di Belle Arte perché io sono felice perché è veramente una persona di grandi qualità però è un po' timida insomma era allora un po' insicura delle sue e quindi non non voleva mettersi in mostra stava sempre un passo dietro allora ho detto va bene facciamo i contenuti insieme ma se senza di te io non lo posso fare però tu poi ti occupi però è un compito tuo perché doveva essere Cristina insegnava pedagogia didattica dell'arte che adesso è comunicazione e pedagogia dell'arte e quindi aveva le competenze oltretutto con una competenza molto particolare che tu conosci bene sui laboratori si era inventata proprio davvero un sistema particolare cioè un metodo di rapporto dei bambini con l'arte che usciva dai canoni classici con il coinvolgimento essendo in un'accademia con il coinvolgimento forte di tutti dei giovani artisti ad esempio Sissi Anna Nancur Anna Rossi hanno lavorato moltissimo con gli studi e si è creato questo corso che è stato un po' faticoso perché l'accademia rispetta il suo nome come visione in avanti quindi non aveva tanta apertura per qualcosa di nuovo si insegna pittura si insegna arte cosa c'entra questo insomma è stato però io e Cristina abbiamo avuto la grande soddisfazione che poi questo triennio questo quinquennio 3 più 2 è stato non solo approvato dal ministero finanziato dal ministero ma è diventato lo schema per tutte le accademie d'Italia quindi poi Cristina perché di darte è proprio Cristina che l'ha che l'ha creato ma appunto dicevo Cristina che è bravissima però lei si sente da un punto di vista non teorico ma proprio di strategia si sente in qualche si sentiva adesso non più naturalmente perché era giovane oltretutto e quindi si sentiva appoggiata da così un nome più una più anziana che quindi era naturalmente più conosciuta e quindi mi ha coinvolto in questa esperienza di darte che è stata un'esperienza europea credo unica nel suo genere veramente e con con il supporto di tutte le quelle quelle straordinarie io le chiamo ragazze perché sono tutte più giovani di me da Silvia Spadoni da Elisa che ancora lavora lì Veronica Cerutti insomma tutto un gruppo che hanno il mambo ebbe ad esempio l'attenzione per questo nuovo gruppo e affidò tutta l'attività didattica a questo gruppo dell'accademia creando anche lì un rapporto tra istituzioni perché questo è secondo me la nuova veste del mambo il rapporto con le istituzioni anche con l'università io appunto ho insegnato questo è l'ultimo anno perché vado in pensione non mi ci sento però insomma l'età parla da sé e abbiamo fatto ad esempio con te quando hai inaugurato la prima mostra diciamo ecco con gli studenti quel curatore per un giorno quell'iniziativa che ha coinvolto che erano sono proprio gli studenti erano pazzi di felicità di poter girare dentro al mambo di prendere appunti tu gli hai fatto le visite gli raccontavi è stata un'esperienza che ha fatto capire come le aperture sono aperture per il futuro nel senso che tu fai un'iniziativa una volta ma l'onda è lunga e quindi c'è un per cui io d'arte è veramente è stata veramente affascinante coinvolgendo l'università di Barcellona coinvolgendo il cosa di Berlin musei importanti musei internazionali musei internazionali assolutamente internazionali un progetto un vero progetto europeo ecco in questo io sono negata invece Cristina è stata bravissima perché entrare in un e ha avuto dei riscontri ed è entrata per tre quattro volte tra i primi quindici progetti europei finanziati dalla comunità europea quindi insomma con riconoscimenti importanti e appunto che ha messo anche il museo perché poi il museo era ospitava ha messo anche il museo in una luce di apertura verso la 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 pedagogia dell'arte che era in quegli anni cominciava a essere in quegli anni ma poi è diventata fondamentale per i musei e sono venuti anche dal Metropolitan a vedere come funzionavano i laboratori del mambo beh ti ringrazio tantissimo per le tue parole e anche per questa testimonianza molto ricca devo dire che testimonia un passato e un'attività svolta con passione e competenza voglio dire per cui ti ringrazio moltissimo ti farei un'ultima domanda una piccola aggiunta che non è fuori tema però perché ti ha visto ti ha visto protagonista nel 1993 quando appunto stava per essere inaugurato il museo Morandi a Palazzo d'Accursio e quindi la prima sede diciamo del museo Morandi che poi si è trasferita al mambo e che adesso è in discussione ancora su una possibile nuova sede ti sei occupata della curatela di una tavola diremmo oggi una tavola di confronto no? di cui esiti io ho studiato su questa rivista Iterarte del Iterarte 37 che era la rivista periodica del Circolo Artistico di Bologna è un documento molto interessante perché parla proprio parla proprio anche di museografia insomma di museologia di che cosa vuol dire fare un museo di che cosa vuol dire fare un museo monografico a una persona così importante e chiamarsi a intervenire molti eminenti personaggi della scena storica artistica e culturale della città adesso il museo Morandi è ancora oggetto di attenzione e si sa insomma che il comune sta lavorando per dargli una sede autonoma si è individuata una possibilità nella palazzina Magnani e visto che te ne sei occupata in passato mi piaceva chiudere questa intervista chiedendoti cosa ne pensi cosa auspichi anche per il museo Morandi del futuro a me sembra una cosa ottima quella della palazzina Magnani perché è dentro a un comparto dove c'è la cineteca dove c'è il mambo dove c'è il parco del cavicchiolo con tutte le sculture all'aperto dove ci sono anche dove il comune ha ripulito diciamo anche le strade sono pedonali c'è una parte dell'università insomma è un comparto molto vivace e molto secondo me anche adatto e che io ho sempre sostenuto che Morandi deve stare vicino all'arte non è il il monaco della pittura il natore d'avorio mi è sempre infastidito anche perché non è reale Morandi ha colloquiato moltissimo con l'arte del suo tempo poi a modo suo con il suo carattere ma è stato sempre attentissimo all'arte del suo tempo e secondo me io poi ho studiato appunto con Arcangeli Arcangeli ha scritto un scrisse per Morandi un monumento straordinario perché il libro la monografia di Arcangeli del 60 su Morandi è straordinario dove metteva Morandi in realtà al centro delle ricerche europee di quel periodo cosa che infastidiva Morandi perché Morandi voleva che tutti dicessero quello che voleva lui e va benissimo il suo diritto era il suo diritto però riportare Morandi nella nella cultura sia degli anni in cui lui è vissuto perché il mambo è una testimonianza di cosa c'era in città di cosa c'era intorno a Morandi Morandi è andato una volta in Svizzera quindi la città per lui era veramente il luogo del suo sguardo che poi il suo sguardo fosse uno sguardo che andava al di là di tutti i confini molto più che viaggiare e che ad esempio la sua arte abbia avuto un forte riflesso su artisti che sono anche presenti al mambo internazionali ci sono opere di Tony Craig che sono dedicate insomma altre sarebbe lungo però siccome io come diceva mia nonna 100 lire per cominciare mille per smettere non voglio essere troppo lunga quello che io sono contenta che il comune di Bologna abbia ripreso in mano il problema del museo Morandi sono molto contenta perché è un patrimonio che ha acquisito perché insomma il comune investì investì molto negli anni 90 per poter avere per poter fare il museo Morandi che lo voglia mettere in quello che diventa il quartiere culturale di Bologna perché questo è quello è il quartiere culturale di Bologna in un posto peraltro adattissimo perché è isolato ma in comunicazione quindi io sono molto favorevole e sono sostengo come avevo sostenuto nel 93 che i musei monografici hanno o sono molto ricchi di denaro o hanno molti investimenti o sono destinati al silenzio perché succede che un museo monografico ci va una volta ci va due volte ci va tre volte poi basta mentre in un museo invece che ha offerte più ampie ci va anche trenta volte voglio dire io dal museo che è uno dei più bei musei monografici come hai visto in vita mia ci sono andata tre volte ma non ci andrò mai più nel senso che voglio dire mentre invece al metropolitano vai comunque allora il museo monografico o è molto ricco e ha quindi la possibilità di muovere molto le cose o proprio ha nel suo DNA il fatto di rimanere isolato il fatto che sia dentro una situazione culturale invece è molto intelligente ecco quindi io sono molto contenta io sono anche stata critica spesso con 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 l'attenzione che così che l'amministrazione ha dato all'arte contemporanea che a volte è stata zero anche all'arte in generale in questo caso invece sono cioè sottolineo che è una politica che si sta attivando una politica interessante molto e anche credo che porterà anche fortuna alla città bene ti ringrazio moltissimo per questa e le altre testimonianze che ci hai dato grazie a Silve Angelo Speriamo di vederci presto di nuovo in spazio e nelle aule fisicamente grazie ancora e al prossimo appuntamento con i due minuti di mambo estesi grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti